E allora è giunto il momento di conoscere cosa ha pensato Angelo Roppolo in questi giorni. Prego. Ma Egidio, io le altre volte ho pensato e ho espresso il mio pensiero. Domenica scorsa, 27 dicembre, ho anche scritto una poesia, la mia poesia intitolata così e poi il sottotitolo è stato Ciao, adesso domenica 3 gennaio, appena reduce da una settimana bianca, nel senso senza un soldo in tasca. Allora mi hai colto un po' di sorpresa. E quindi non hai pensato? E quindi non ho avuto il tempo di pensare, non ho avuto il tempo di scrivere, però ho pensato che il tuo studio televisivo ormai si è trasformato in una sorta di actor studio. Nel senso si pensa, si scrivono degli articoli, delle poesie, quindi ci si improvvisa poeti, in un certo qual modo si sperimentano le proprie capacità, potenzialità, nel mio caso velleità artistiche. E allora, proprio perché mi hai colto di sorpresa, in quanto reduce dalla settimana bianca, io mi improvviso lettore, nel senso recito una poesia, che per me non è nuova perché è una poesia che io leggo e recito forse più di una preghiera, nel senso che è un dettato poetico che ha inciso molto sulla mia personalità, sulla mia esistenza e penso anche sulla esistenza di tanti altri. Peraltro è domenica 3 gennaio, quindi la uso quasi come una sorta di auspicio, di incoraggiamento verso i nostri telespettatori. Prego. La poesia è Se, di Kipling, inizio dell'anno, una condizione, se, if, se riuscirai, Camera, Lombardo, Carlisi, Lamedola, chi è dei tre? Bene. Carlisi. Se riuscirai a non perdere la testa quando tutti la perdono intorno a te, dandotene a te la colpa. Se riuscirai ad avere fede in te quando tutti dubitano e mettendo in conto anche il loro dubitare. Se riuscirai ad attendere senza stancarti nell'attesa. Se calugnato non perderai tempo con le calugne. O se odiato non ti farai prendere dall'odio senza apparir però troppo buono o troppo saggio. Se riuscirai a sognare senza che il sogno sia il padrone. Se riuscirai a pensare senza che pensare sia il tuo scopo. Se riuscirai ad affrontare il successo e l'insuccesso trattando quei due impostori allo stesso modo. Se riuscirai a riascoltare la verità da te espressa, distorta da furfanti per intrappolarvi di ingenui. O a veder crollare le cose per cui dai la tua vita e a chinarti per rimetterle insieme con mezzi di ripiego. Se riuscirai ad ammucchiare tutte le tue vincite e a giocartele in un sol colpo a testa e croce. E a perdere e a ricominciare tutto da capo senza mai fiatare e dir nulla delle perdite. Se riuscirai a costringere cuore, nervi, muscoli, benché sfiniti da un pezzo, a servire ai tuoi scopi. E a tenere duro quanto più niente resta in te, tranne la volontà che ingiunge, tieni duro. Se riuscirai a parlare alle folle, serbando le tue virtù. O a passeggiare con il re e non perdere il tuo fare ordinario. Se né i nemici né i cari amici riusciranno a colpirti, se tutti contano per te ma nessuno mai troppo. Se riuscirai a riempire l'attimo inesorabile e a dar valore ad ognuno dei suoi 60 secondi, il mondo sarà tuo allora, con quanto contiene e quel che più tu sarai un uomo, figlio mio. E abbiamo riascoltato con molto piacere questa... Ebbene, credo che sia veramente il migliore auspicio per poter iniziare questo nuovo anno carichi di entusiasmo, di buoni propositi e di tenacia, quella tenacia tanto cara a Leonardo Sciascia. Grazie, Angelo Ruoppolo.